Una croce realizzata con il legno azzurro dei barconi dei migranti arenati a Lampedusa è stata donata da alcune bambine con le loro mamme, ospiti della cooperativa Auxilium a Bitonto al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della conferenza episcopale italiana durante il pranzo organizzato nella Fiera del Levante a conclusione del meeting Mediterraneo Frontiera di Pace, che si è svolto a Bari dal 19 al 23 febbraio. A consegnare la croce al cardinale e l'altra che sarà donata a Papa Francesco sono state sei bambine tra i sei e i pochi mesi di vita, la più piccola nata del centro di accoglienza e le loro giovani mamme tra i 18 e i 30 anni provenienti da Costa d'Avorio, Camerun, Guinea e Nigeria, tutte partite dalla Libia. L'opera è stata realizzata anche grazie al contributo dell'arciconfraternite a Santa Maria del Suffragio di Bitonto, che ha accolto l'invito della cooperativa fornendo il materiale ligno recuperato nell'ambito di un progetto artistico più ampio che porterà fino alla Santa Pasqua. I legni delle croci pettoriali, disegnate dall'ingegnere Vitantonio Vacche e realizzate dall'artigiano Michele Migliore, sono stati estratti dal fasciame dei legni provenienti dai barchini dei migranti approdati negli ultimi anni a Lampedusa, che il Pio Sodalizio utilizzerà per realizzare il trofeo delle schegge e ligne della Santa Croce di Gerusalemme, che verrà portato in processione la notte del venerdì santo a Bitonto. Il trofeo ideato proprio da Vacche e dal giornalista Savino Carbone sarà un'opera ispirata alla tradizione ascultoria del barocco romano e racconterà una storia di passione contemporanea legata appunto alle tragedie del Mediterraneo. Per questo i progettisti si sono recati sull'isola di Lampedusa accompagnati dal priore dell'arci confraternita Andrea Vacca, Don Mimo Chiarantoni e dallo scrittore Renato Brucoli e hanno raccolto, in accordo con le autorità competenti, il fasciame di numerose barche stoccate presso il cimitero dei barchini. L'opera sarà dedicata a Uelela, giovane donna eritrea morta nel 2015 proprio su quei barchini, la cui storia è stata raccontata proprio da Renato Brucoli. In virtù del percorso intrapreso, quindi l'arci confraternita ha accolto positivamente l'invito dalla collaborazione della cooperativa Auxilium, credendo fortemente nella necessità di un momento di riflessione come quello promosso da Papa Francesco.